Tre derby pugliesi ed una sfida a Pulo-Lucana contraddistingueranno il tredicesimo turno di campionato in Serie D. Fare i puntati sul confronto tutto salentino che vedrà sfidarsi al capozza il miglior attacco e la miglior difesa del girone H. Parliamo ovviamente di Casarane e Nardò, distanti appena un punto ma intenzionati a far bene per restare aggrappati ai piani alti della graduatoria. A proposito di piani alti, la gavese capolista non solitaria sarà ospite del Francavilla, mentre l'altra prima classificata, il Barletta, sarà di scena ad Altamura per il secondo dei tre derby di giornata. Il Fasano sarà invece impegnato in campania, nel dettaglio a Nocera Inferiore, mentre il Brindisi ospiterà la Puteolana. Il terzo confronto made in Puglia vedrà sfidarsi al Tursi, Martina e Molfetta. I padroni di casa sono imbattuti da sette giornate e dovranno vedersela con una formazione che avrà tutte le intenzioni di tenersi a debita distanza dalla zona playoff, nella quale sono attualmente presenti Lavello e Bitonto. Missione a gancio per i neroverdi, impegnati in Basilicata proprio contro i Lucani, che avranno la possibilità di spaccare ulteriormente la classifica, creando un bel varco fra le prime 14 e le ultime 4 della classe. Questo però dipenderà anche dall'esito di Gravina Gladiator, con il giallo-blu ancora a caccia del primo successo in campionato. Gorett e compagni avranno a che fare con una squadra tutt'altro che in forma, a cui mancano i tre punti da ben sette turni. Chiudono, letteralmente parlando, il programma di giornata fra Golese e Matera. Il posticipo delle 15 e 30 vedrà dunque la formazione bianca-azzurra, rigenerata dall'arrivo di Mister Ciullo, contro una delle grandi delusioni di questa prima tranche stagionale.